Sono più di 20.000 gli elettori tra l'Alto Tireno Cosentino e il Golfo di Policastro chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali nella tornata amministrativa di domenica 25 maggio. Elettori che dopo 5 anni tornano a giudicare con lo strumento del voto l'operato della locale classe dirigente. Nel 2009 a Belvedere Marittimo erano tre le liste in lizza per conquistare la maggioranza dei seggi in consiglio comunale. Su oltre 9.720 diritto furono 6.486 i cittadini che si recarono alle urne. Il 48% di questi accordò il consenso ad Enrico Granata che con 2.970 preferenze superò di 1.100 voti Raffaella Sansoni. Più staccato a quota 1.393 Mauro d'Aprile. A Verbicaro 5 anni fa in una competizione a 4 liste furono sufficienti 851 suffragi a Felice Spingola per conquistare la poltrona di primo cittadino. Dietro di lui Francesco Silvestri che conquistò due seggi in minoranza e a seguire Giuseppe Reimondi e Francesco Germano. Nel comune Montano votò il 63,4% degli aventi diritto, un totale di 2.365 su 3.730. Il 2009 sancì a Buonvicino un vero e proprio plebiscito per Giuseppe Greco che si aggiudicò il secondo mandato con il 95% dei voti. A Santa Domenica Talao il duello tra Alfredo Lucchesi e Giuseppe Antonio La Greca fu vinto dal primo con il 63% delle preferenze. A Santa Maria del Cedro invece nella corsa a 3 Giuseppe Aulicino centra il secondo mandato consecutivo ottenendo il 54% dei voti su 3.657 votanti. Cinque scranni in minoranza invece per la lista guidata da Francesco Fazio. Solo 11 voti e nessun seggio per la terza lista Il Castello di Alberto Corrado. Ad orso marzo cinque anni fa vinse la lista guidata da Paola Maria Candia con il 54% dei voti su 961 votanti e tre liste in corsa. Una vittoria che non avrà continuità visto che la maggioranza uscente non si è riproposta all'elettorato. A Maratea nel 2009 Maglio di Trani ottenne una vittoria risicata nella corsa a quattro liste. Appena 155 voti in più della lista cappeggiata da Francesco Sisigni. Decisamente più staccati i candidati al sindaco Valerio Mignone e Carmelo Ferrara che conquistarono rispettivamente il 14% e il 9%. Non bisogna risalire a cinque anni fa per i retrospettivi di Diamante. La città dei Murales infatti torna al voto a due anni dalla schiacciante vittoria di Ernesto Magorno, capolista del Sole, che dopo la ricusazione della lista Il Volo si confrontò soltanto con la compagine Cambiamenti. Con l'82% dei suffraggi Magorno si riconfermò sindaco salvo poi essere eletto deputato della Repubblica. Da qui l'iter di decadenza e le elezioni anticipate.